www.monizopoli.it mi dico la settimanale Montopanano, nell'inserto Economia e Lavoro, nella rubrica Risparmio e Finanza, nuovo articolo di Giosi Biondelli, educatore e consulente finanziario, che ci parla del Salone del Risparmio che si è svolto questa settimana a Milano. Strategie con sepovolezza, l'obiettivo è invecchiare in salute per liberare risorse economiche pubbliche. Il titolo di quest'anno era Il Risparmio oltre la crisi, accompagnare l'investitore verso scelte consapevoli. Nell'apertura del convegno, interessante è stato un intervento tra gli altri del dottor Nicola Palmarini, direttore di NICA, molto interessante questo intervento, vi invito a leggere il resoconto. Primo passo necessario, occuparci del nostro futuro previdenziale, ricordando l'importanza della qualità della vita nell'età silver, che è il nostro patrimonio, che ci deve supportare in questo obiettivo di investimento a lunghissimo periodo. Vi auguro una buona lettura in cartaccio e in digitale su www.potana.it Alla prossima!